A reschio e chiusura, quattro punti nascita d'Abruzzo. Gli utenti di Atre, Ortona, Pene e Sulmona, secondo le direttive del Governo nazionale, verranno riversati sulle altre strutture, che tra Pescara e Teramo raggiungono quasi 3.000 parti l'anno. Una preoccupazione da un lato per gli utenti, dall'altro per le reali capacità di ricezione delle strutture. Forza Italia mette sul tavolo tutte le perplessità del caso. È talmente chiara la cosa che addirittura il decreto numero 10, firmato dal Presidente D'Alfonso, non è ancora pubblicato sui siti ufficiali della Regione Abruzzo, per cui non sappiamo neanche che cosa abbia sottoscritto. Cioè si parla di chiusure, però noi non sappiamo l'atto, non leggiamo l'atto, non leggiamo le motivazioni. Perplessità anche riguardo alle motivazioni, addotte oggi da un lato dalla classe politica dirigente e dall'altra dai diversi direttori delle ASL, che secondo Forza Italia si sarebbero contraddetti più volte sul reale stato di presidi e reparti in causa. Io chiedo, e mi continuo a chiedere, come mai quei reparti sono così insicuri, perché sono stati tenuti aperti. Noi abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario per discutere di questo problema, perché c'è una risoluzione votata in unanimità, quindi votata sia dal Presidente D'Alfonso, sia dalla Signora Paolucci, dove c'era un impegno specifico che dopo l'esame di alcuni dati, di una serie di comitati che si dovevano riunire, compreso quello dei sindaci che non si è mai riunito, sarebbero venuti in aula a spiegarci e dirci le motivazioni, perché questi punti di nasce dovrebbero chiudere.